Lo spazio è quello di Altarocca Cerimonia, sono qui con le due colonne portanti di questo punto di attrazione per chi è in vista del matrimonio al maschile da sempre. Baby, paggetti, damigelle, sono delle cose strepitose, ma adesso, grande novità, c'è anche la sposa, giusto? Ne parliamo con? Ne parliamo con Francesca e confermo sì, c'è anche una splendida sposa. Questa sposa è arrivata desiderata, voluta, come un bimbo che non arriva e alla fine finalmente nasce. È una grande passione, grande esperienza per voi, perché quello che il pubblico vede è solo da parte dell'enorme lavoro che c'è dentro il mondo di un atelier. 40 anni di esperienza, mi dice? Sì, Pierluigi, più di 40 anni ormai, da 78. Quindi nasci in famiglia e poi piano piano si cresce. Avete sempre avuto una grande attenzione per il dettaglio, per anche il ricercato, il momento particolare. Quando proponete, prima vi guardavo con delle famiglie, i mini tight per i bimbi, è una cosa spettacolare. Posso prenderlo uno? Sì, sì, prendiamo uno, lo facciamo vedere. Pierluigi? Ecco, la più vicino tu, ovviamente c'è la miniatura dello sposo, quindi laddove c'è il vestito da grande, da sposo. Lo facciamo vedere a costa? È una meraviglia. E immaginate come si sente importante il piccolino che lo indossa. Diventa una festa nella festa, alla fine. A malincuore si può dire che ruba quasi la scena alla sposa, anche se non si potrebbe tanto dire, perché ovviamente si possono rimanere male, però è la verità, sono i bambini che forse sono veramente la cosa più bella che ci sta. Quando entrano in chiesa con le fedi sono una cosa stupenda. Ma ai bambini si perdona tutto, il matrimonio è proprio la festa della famiglia, non è soltanto della sposa e dello sposo. E voi che lo fate da tanto tempo lo sapete bene, così come da tanto tempo siete in Abruzzo Sposi, ormai avete una certa esperienza e potete dirci come valutate l'organizzazione che ogni anno aggiunge qualcosina. Guarda, ci troviamo sempre bene, poi ormai c'è un feeling con lo staff di Abruzzo Sposi che non vorrei mai mancare. Quindi cosa vi devo dire? Vedete la sporre qui che va molto bene, insomma. Quindi nessun suggerimento di cambiamento, aggiustamento, va bene così? Ci vorrebbe più corrente. Non basta mai perché voglio sempre più luce, sempre di più. A parte gli scherzi, ci vuole anche questo. Dentro un museo storico che richiama le nostre radici antiche, forse non tutti si aspettano di trovare il mondo intero del wedding, mia cara. E invece quando arrivano qui che impressioni hanno? Secondo te questo luogo che ci accoglie li aiuta a sentirsi meglio, più rilassati, a scegliere anche meglio perché è anche questo un equilibrio psicologico con chi dovrà poi acquistare? Oppure li mette in soggezione? Allora, secondo me invece si trovano bene per il semplice fatto che siamo molto raccolti. Quindi non dobbiamo andare a fare chilometri da uno stand all'altro cercando... Abbiamo un percorso obbligatorio che ci guida esattamente dall'inizio alla fine e unisce anche degli stand che possono anche collaborare, come ad esempio noi con di fronte con il nostro amico fotografo Gennari o con l'animazione di là o con l'agenzia di viaggio. Si crea una sorta di fiera nella fiera. Questa è la cosa carina, diciamo. Quindi una vera e propria rete che poi funziona nel tempo perché il vostro è un lavoro di relazioni. Di relazioni, soprattutto anche di passaparola, laddove c'è uno sposo che ha bisogno di un fotografo o di qualcosa, ci si spalleggia a vicenda e questa è la cosa bella, non si va in competizione. Questa è la cosa principale. Sapete che la fiera è anche interattiva, quindi propone anche eventualmente dei trunk show o degli incontri one to one con coppie di sposi o anche singolo sposo, singola sposa. Non avete scelto questa formula per ora? No, no, no. Quindi contattate o cercate sul web Alta Rocca Cerimonia o venite qui se siete in giro, si aspettiamo. E comunque sia per tutti. Viva gli sposi! Sempre!